L'hanno cacciato da cinque, sei istituti. Qual è la diagnosi? Autismo particolarmente grave. Andiamo a fare una passeggiata? Vincent Cassel. Ci hanno chiesto di condurre un'indagine perché questa associazione non dispone assolutamente di un'autorizzazione ufficiale o di un'abilitazione. Dai registi di quasi amici. Loro viaggiano su binari diversi. Sono mossi dal cuore. E in questo sono degli innovatori. Posso appoggiare la testa sulla tua spalla? Sì, dai, fai fretta. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo Ce ne occupiamo noi perché non li vuole nessuno. Prendeteli voi. Però li prendete tutti. The Specials. Fuori dal comune. Questa sera, 21 e 20, Rai 3.